Timo. Addetti stranieri in visita per la collaborazione militare sono saliti a Cerviglia. La conca li accoglie nello splendore della sua toletta invernale. Li accolgono sportivi e marziali gli allievi della scuola specialità alpina sciatori. Viaggiano le funivie verso i campi di sci tra le vette. Sale verso il Valle San questa seggiovia. Ci siamo spostati alla Tuil. Capitombolo a comando. Tuffo scientifico per raggiungere la posizione di tiro. Le canne d'acciaio si spiamano come da bianche dune. Questi sparano proiettili, il nostro operatore in quadrature. Dalle dune emergono i cappucci mimetizzati come di beduini in un sara di neve. Più rapide che le insidie del gelo corrono le slitte di soccorso. Gli ospiti rientrano nella caserma che porta il nome della più alta sentinella d'Europa. Grazie. Grazie.